Un vero happening oggi alla Galleria Apioa a Venezia. Nina, una delle coordinatrici di questo evento. Allora, opere che sono opere di design, opere di architettura, oggetti che hanno una loro funzione in casa, fuori, belli, tutti fatti, progettati da un gruppo di artisti. Allora Nina, raccontaci questo happening. Questa è la prima volta per noi, siamo un gruppo di designer sloveni, esponiamo, siamo più di 40 che esponiamo qua, è la prima volta che esponiamo all'estero, tutti insieme, e questo evento si chiama Pop-up Dom, che significa Pop-up Casa, e a Ljubljana c'è stato già due volte, l'anno scorso e nel 2012, e adesso per la prima volta all'estero. Questo non è ovviamente un negozio di arredamento, ma gli oggetti sono molto importanti, scherzosi, belli, e qui vediamo per esempio delle affisce, divani, tavolini, anche le piante, una bellissima bicicletta lì in vetrina, e anche dei vasi, una libreria in cartone, una libreria modulare. Come nasce l'idea di questa esposizione? A Ljubljana o in Slovenia non c'è un posto dove giovani designer, artisti, grafici, illustratori, possono esibire le proprie cose, quindi l'abbiamo creato da soli, un posto dove possiamo esporre le proprie cose. È nato prima da quest'idea di esporre le proprie cose, però poi è diventato più grande, e quindi facciamo un open call, chiediamo alla gente di mandarci le proprie cose e poi le esporiamo. E queste opere sono tutte in vendita? Sì, tutto e anche tutti gli oggetti si possono usare nella casa. E ovviamente voi le fate non soltanto per vendere, ma anche per esporre l'idea del design in Slovenia, che è una delle grandi cose nate in quel paese. Ma noi siamo adesso a Venezia per esporre le nostre cose, ma anche per esporre, ma di più per conoscere nuova gente, per collaborare con loro, forse nel futuro. E il vostro progetto, oltre ad essere voi 40 ragazzi, giovani, di scuola, di design, è un progetto che andrà avanti anche in altri paesi, o è adesso una prova per vedere come funziona? È assolutamente una prova, però sì, speriamo di andare in giro. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei.